Musica 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 Tutto che dovremmo farlo più spesso perché come vedete c'è parecchia gente e non soltanto potete trascorrere il tempo con gli amici ma addirittura con le vostre famiglie ad esempio guardate c'è mio fratello con la sua ragazza, i miei piccoli cucinetti, mia madre, mia zia, tutti quanti tutta la mia famiglia al completo e anche i miei amici più cari ed è solo grazie alla signora a cui è presente che siamo riusciti a fare tutto questo se volete potete chiedere anche a lei Capisco che essere credibile con questa cosa in testa sia un po' difficile in questo momento mi sento una matta perché portare questi ragazzi in mezzo a questa festa della nostra città insomma dove appunto ci sono coinvolte tante diverse agenzie tutti i negozi si sono messi insieme in modo in amore mio ci hanno accolto in questa iniziativa che vuole essere ancora una volta un segno di come la disabilità non deve essere tenuta nel parcheggio con la carrozzina blu disegnata ma deve essere portata in giro a vivere ogni tipo di esperienza dare un significato anche questa giornata che non è proprio della nostra cultura questa festa di Halloween ma la nostra città è mobilitata come vedete c'è tanta gente, tante famiglie, tanti bambini noi abbiamo voluto dare un segno di come anche questa festa può essere un segno dell'integrazione noi siamo venuti con i nostri ragazzi, c'è anche una palestra che ci ha dato una mano ad animare il momento ed è solo un piccolo segno, uno dei tanti che vogliamo continuare a dare a favore appunto dell'integrazione di tutti i tipi come vedete abbiamo dei ragazzi di tutte le provenienze, di tutti i generi anche dall'altretomba e quindi siamo proprio al completo direi ciao